C'è una società che da un anno e mezzo sta trainando l'intero mercato azionario. Stiamo parlando di NVIDIA. Da inizio 2023 ad oggi ha realizzato un più 600%, portando il proprio market cap da 360 ad oltre 2000 miliardi di dollari, diventando una delle compagnie più grandi dell'intero indice, il tutto in 18 mesi. La domanda che tutti si stanno facendo è può crescere ancora questi ritmi o è sopravvalutata? Permettendo che ognuno fa le sue proprie valutazioni, in questa nuova lezione del corso sugli investimenti ci concentreremo proprio su questo titolo per vedere cosa si nasconde dietro queste valutazioni stellari. E il ragionamento che faremo alla fine, prometto, vi piacerà. Come al solito ringraziamo Scalable Capital per il supporto che ci dà nella realizzazione di questo progetto, rendendolo gratuito e accessibile a tutti. Io lo uso da quasi un anno e mi trovo benissimo, quindi se volete approfondirlo vi lasciamo il link in descrizione. Detto ciò partiamo dalle performance incredibili che Nvidia ha registrato da inizio 23. Allora, il titolo in borsa ha fatto un 6x, entrando così a far parte delle magnifiche 7. Anche tra queste, che ricordiamo essere le 7 società tech, che soprattutto nel 23 hanno letteralmente trainato il mercato azionario americano, è quella che è andata meglio. Non a caso nel 23 il settore Information Technologies dell'SP500 è cresciuto dal 57%, è quello delle telecomunicazioni del 56%, mentre tutti gli altri settori hanno avuto ritmi ben più contenuti, se non addirittura in alcuni casi negativi, come quello energetico o delle utilities. Ma torniamo a Nvidia. In molti si stanno chiedendo se è sopravvalutata o meno, e di solito in questi casi la prima cosa che si fa vedere è il rapporto prezzo-utili. Nel momento in cui stiamo registrando, il price earning a 12 mesi è superiore a 70, il che porterebbe molti investitori a vederla subito come sopravvalutata. Tuttavia, come abbiamo spiegato durante il corso, non è sufficiente guardare un parametro per giudicare una società. Primo perché questo potrebbe essere influenzato da diversi fattori. Secondo perché non esiste un valore alto o basso in senso assoluto, ma deve essere confrontato con società simili e vedere come potrebbe variare in futuro. Così abbiamo provato a confrontare Nvidia, AMD e Intel, grazie alla funzione di confronto azioni di Scalable. Intel ha effettivamente un price earning che è meno della metà di quello di Nvidia, mentre Advanced Micro Devices ha un rapporto prezzo-utili superiore a 300. Quindi Intel è più economica e migliore? Non proprio. Nella scorsa lezione abbiamo visto che in realtà non se la sta passando benissimo, e le prospettive future non sono delle migliori, motivo per il quale molti investitori non sono disposti a pagarla molto di più rispetto agli utili che realizza, e il titolo sta registrando brutte performance in borsa, con un meno 37% da inizio anno. Inoltre, in questo caso, la fase di confronto è ancora più complessa, visto che, se vogliamo essere precisi, i competitors diretti di Nvidia sono veramente pochi. Anche i due che abbiamo preso poco fa, Intel e AMD, non hanno un modello di business identico. Ciò che caratterizza Nvidia è la produzione di GPU, sostanzialmente dei processori dedicati alla parte grafica, mentre Intel è molto più verticale sulle CPU, ovvero i chip responsabili dell'esecuzione di calcoli complessi. AMD produce sia CPU che GPU. Comunque, abbiamo visto che il rapporto prezzo-utili di Nvidia non è proprio contenuto, ma, se da un lato il titolo in borsa è cresciuto molto, anche i fondamentali sono aumentati. Di fatto, se andiamo a confrontare i risultati del 23 con quelli degli anni precedenti, notiamo una differenza impressionante. Lo scorso anno i ricavi sono cresciuti del 126% su base annua, superando i 60 miliardi, ma soprattutto l'utile ha fatto quasi un 6 per, passando da 4,3 miliardi nel 22 a quasi 30 miliardi nel 23. Sostanzialmente, l'utile del 23 è stato maggiore di tutte le entrate del 22, una cosa impressionante. Questo non è riconducibile solamente alle maggiori entrate, ma anche ai margini lordi che sono aumentati arrivando al 72%. Eppure la società, per mantenere la sua posizione di leadership tecnologica, deve continuare ad investire in ricerca e sviluppo, per rendere le sue schede grafiche sempre più efficienti e in grado di risolvere calcoli complessi. Qui probabilmente vi stupiremo, ma Nvidia non sta investendo molto di più rispetto al passato di ricerca e sviluppo. Tra il 22 e il 23 questa voce è aumentata solo del 18%. Fino adesso abbiamo parlato di performance passate, ma come anticipavamo a inizio video, ciò che tutti si stanno chiedendo è se queste continueranno in futuro, oppure se è troppo tardi per salire sulla barca. Ognuno qui può fare le sue ipotesi e noi non siamo consulenti finanziari, ma può essere utile andare a vedere cosa dice direttamente la società, visto che ha più dati a disposizione di tutti noi piccoli investitori. Dunque, trimestrale alla mano, andiamo a vedere cosa ci si aspetta. Per quanto riguarda il primo trimestre 24, la società si aspetta entrate per 24 miliardi, dunque due in più rispetto a quello passato. In più, e forse questo l'aspetto più interessante, ci sono già diversi accordi confermati o in fase di trattativa con altre importanti società che garantiscono un elevato numero di vendita a Nvidia. Tra questi troviamo Meta, che ha già detto di voler acquistare 350.000 GPU H100, il modello più potente realizzato da Nvidia fino adesso. Per fornire ai suoi server le ultime tecnologie disponibili. Solo questo ordine è di circa 9 miliardi. Ma non è tutto qui. Troviamo altri grossi nomi, come la collaborazione con Alphabet per migliorare il loro modello di intelligenza artificiale. Amazon, che attraverso il segmento Amazon Web Services vuole migliorare il proprio servizio di cloud, come lo sta facendo anche Microsoft. Nelle ultime trimestrali, tutte le big tech stanno dicendo di investire sempre di più nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. E vista l'importanza di Nvidia in questo campo, ci si può aspettare che i grossi clienti continueranno ad aumentare. Per non parlare poi di tutte le case automotive, che per rendere le proprie auto sempre più intelligenti e connesse, hanno bisogno di GPU come quelle di Nvidia. Proprio Tesla è stata tra le prime di introdurre questi chip nelle sue auto. Ma oggi troviamo anche brand cinesi di auto elettriche, come Li Auto, Xiaomi e case come Mercedes e Volvo. In tutto questo, tra i clienti, può vantare anche il governo americano, visto che la supporta tramite il programma nazionale dedicato alla ricerca sull'intelligenza artificiale. Insomma, la società prevede di continuare a crescere e di vantare clienti sempre più importanti, con accordi pluriennali. Tornando a noi, se anche le loro previsioni si rivelassero corrette, quanto può durare una crescita a questi ritmi? Quali vantaggi competitivi ha rispetto alle competitors? Quali criticità ci possono essere? Alcuni li abbiamo già citati, come la collaborazione con importanti brand e il governo. E tutte queste sono dovute principalmente alla sua superiorità tecnologica rispetto alle rivali. In più nel tempo sta sviluppando che una parte software, ovviamente integrata con le sue GPU e data center, che rendono più difficile per un'azienda che li usa entrambi cambiare fornitore. Tuttavia c'è da dire che la superiorità tecnologica non si sa fino a quando potrà durare. Ad esempio di recente AMD ha presentato i chip MI300X, che sono più potenti degli H100 di NVIDIA. Ad ogni modo oggi è leader nel mondo delle schede grafiche e dei data center utilizzati per l'intelligenza artificiale. E difficilmente questo cambierà nel brevissimo termine, visto gli enormi costi che devono essere sostenuti per entrare in questo mercato e continuare ad innovare. Ma nel tech in pochi anni le cose possono cambiare molto, lo abbiamo imparato. A questo aggiungiamo la solidità finanziaria, visto che NVIDIA ha un rapporto Debt to Equity di 0,2, che indica come il livello di indebitamento della società sia molto contenuto. Come ogni azienda però non è esente da rischi. Primo fra tutti quello geopolitico, avete capito bene. Essendo la più grande compagnia in un campo di interesse strategico come quello dell'intelligenza artificiale, il governo americano vuole tenersi strette queste tecnologie per evitare che succeda come in passato, dove innovazioni nazionali venivano imitate in altri paesi. Proprio per questo ha vietato la vendita delle schede grafiche più prestazionali in Cina, affermando che queste venivano usate per scopi militari. Anche all'interno delle trimestrali di NVIDIA vediamo come le vendite in Cina siano calate notevolmente dopo questa decisione. Collegato a questo rischio ce n'è un altro, ovvero la dipendenza da fornitori terzi per quanto riguarda la realizzazione dei suoi prodotti. NVIDIA infatti si concentra sul design e l'innovazione tecnologica, lasciando la fase di assemblaggio a società terze, principalmente TSMC. Per i pochi che non la conoscessero, questo è il più grande produttore di semiconduttori al mondo e da anni è al centro di tensioni geopolitiche. Infatti ha sede in Taiwan, isola che la Cina minaccia da tempo di voler conquistare, appropriandosi così di una società di importanza globale. Proprio per questo gli Stati Uniti stanno iniziando a finanziare e costruire fabbriche come queste sul suolo nazionale, ma queste richiederanno anni prima di essere completate, visti anche gli ingenti costi che devono essere sostenuti. Allarghiamo lo sguardo e analizziamo quali potrebbero essere gli sviluppi futuri. Secondo uno studio condotto da PVC, entro il 2030 l'intelligenza artificiale potrebbe dare un contributo di 15.700 miliardi di dollari all'economia globale, permettendo un aumento del PIL in quasi tutti i paesi. Ad esempio in Cina si stima sarà del 26%, in Nord America del 14,5%. Secondo Standard & Pool Global Market Intelligence invece, dal 2023 al 2028, le entrate del mercato dell'intelligenza artificiale vedranno una crescita composta del 57,9%. In tutto questo, già oggi gli investimenti in ricerca e sviluppo di queste tecnologie stanno aumentando, sia direttamente dalle big tech, sia investendo in startup promettenti. È vero che Nvidia non è una società di sviluppo software, ma essendo così legata all'intelligenza artificiale, ed essendo questo un mercato in grande crescita, ne potrebbe trarre un grosso vantaggio. Prima di concludere il video, vorremmo fare un ragionamento con voi, come promesso all'inizio. A inizio video abbiamo parlato dell'attuale rapporto prezzo utile della società, confrontandolo con le competitors. Ma come cambierà in futuro? Insomma, se gli utili continueranno ad aumentare a questi ritmi, il rapporto andrà via via diminuendo. Infatti, se andiamo a vedere il price earning forward, ovvero le stime future, vediamo che nei prossimi anni potrebbe calare fino a raggiungere quota 30. Ancora non si può parlare di società value, visto che queste hanno solitamente price earning inferiori a 20 o 15, ma comunque sarebbe molto meno sopravvalutata. Ma attenzione ad una cosa, stiamo parlando di questi valori con il prezzo attuale, ovvero rispondendo alla domanda, quanto utile dovrebbe fare Nvidia per valere al prezzo di oggi? Quindi non stiamo parlando di crescita del prezzo dell'azione. Per farlo dovrebbe continuare ad aumentare i suoi utili anche dopo il 2027, con dimensioni incredibili. Capite perché in questi casi si parla di aspettative molto alte, un po' come di recente si è parlato di Apple, che non aumenta il suo fatturato da due anni. Però ragazzi, quando fatturi quasi 400 miliardi, è già una grossa sfida confermare questi importi ogni anno. Figuriamoci, aumentarli a ritmi sostenuti. Chiaramente, come tutte le società con molto hype e grosse opportunità di crescita, c'è anche un rischio molto elevato rispetto a compagnie che crescono a ritmi più contenuti. Ok signori, siamo arrivati alla fine di questa lezione del corso in collaborazione con Scaleable. Speriamo di avervi fatto aprire un po' di più gli occhi su Nvidia, in modo da avere una panoramica quanto più completa, per poter fare le opportune valutazioni. Vi ricordiamo che se volete provare Scaleable, tutti i piani di accumulo sono senza costi d'ordine, riceverete gli interessi sulla liquidità non investita, e tanti altri vantaggi in descrizione con il nostro link affiliato. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!